Con 36 voti su 40 partecipanti, Antonio Mazzeo è stato rieletto Presidente del Consiglio regionale della Toscana nell'undicesima legislatura. La votazione sul Presidente del Consiglio regionale è stato il primo atto delle operazioni di voto per il rinnovo dell'ufficio di presidenza, previsto dal regolamento interno giunti alla metà della legislatura. La proposta di riconfermare Mazzeo è stata avanzata in aula da Vincenzo Ceccarelli. Hanno annunciato voto favoreore tutti i gruppi politici. Sento un forte carico di responsabilità. Quando l'Assemblea legislativa ti elegge nella maniera in cui sono stato eletto oggi mi dà il senso di quanto sia importante il lavoro che abbiamo fatto in questi due anni e mezzo con serietà, con impegno, con rigore, con passione insieme a tutti gli altri colleghi dell'ufficio di presidenza che ringrazio. Io mi sono preso un compito che è quello di cercare di portare nei prossimi due anni questa Assemblea legislativa essere sempre più la casa delle toscane e dei toscani. Un luogo aperto in cui la maggioranza possa perseguire la sua giusta volontà di portare a casa le leggi che ritiene più giuste per offrire servizi migliori ai cittadini e ai cittadini toscani e la minoranza abbia il suo spazio di critica e anche di opposizione dura, aspra quando serve. Io sarò garante di questo. Voglio essere come ho fatto fino ad oggi e spero di poter fare meglio il presidente di tutte le toscane e di tutti i toscani. Vi assicuro che oggi, dopo questa votazione, ero ancora più emozionato perché quando ci si conosce poco si può dare fiducia, così anche a scatola vuota. Dopo due anni e mezzo di lavoro il risultato di oggi apre anche un significato, ha un significato, quello di aver creato con tutte le forze politiche un rapporto vero, schietto, leale, sincero perché poi alla fine l'obiettivo di tutti è offrire ai cittadini e ai cittadini della Toscana servizi migliori. Non so se sempre siamo stati all'altezza ma so che continueremo ad andare avanti in questa direzione. Stefano Scaramelli e Marco Casucci sono stati rieletti vicepresidenti dell'Assemblea Legislativa. Scaramelli ha ottenuto 21 voti, Casucci 13. Anche in questo caso si tratta di una riconferma. Un segnale importante è che consolida una maggioranza solida a livello regionale. Ringrazio le colleghe e i colleghi del Partito Democratico per la fiducia che mi hanno concesso. Ringrazio il collega Sguanci. Si consolida la maggioranza di centrosinistra nel governo della nostra regione, si consolida e si rafforza il governo Gianni, nel contempo la mia figura di carattere istituzionale, a garanzia di tutto il Consiglio regionale, di tutti i cittadini toscani, quindi la capacità di incidere nei processi dell'Aula, nella presidenza dell'Aula, in tante iniziative istituzionali che ho sostenuto nel territorio, con il quale ho collaborato con Antonio Mazzeo, presidente, anche lui riconfermato, e nel contempo ovviamente conferma del mio ruolo in questo momento anche di guida politica di Italia Viva a livello regionale, nel Consiglio regionale, a sostegno ovviamente di una maggioranza che si consolida con questo voto che compatta quindi questa nostra coalizione. Far parte dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Toscana è un grande onore, ma anche ci spinge a dare il meglio di noi stessi e a migliorarci giorno per giorno. Siamo al servizio dei Toscani e lo stiamo dirigendo la macchina del Consiglio regionale, facendo gioco di squadra quando va fatto. In effetti siamo riusciti a dare il nostro contributo insieme agli altri per proposte unitarie che sono state poi approvate dall'Aula. Mi riferisco in particolare sull'avanzo di bilancio. E al tempo stesso abbiamo svolto con puntualità il nostro compito ispettivo affinché tutto potesse procedere nel modo migliore e con la massima trasparenza. Francesco Gazzetti e Marco Stella sono stati eletti consiglieri questori dell'ufficio di presidenza. Gazzetti ha ottenuto 19 voti, Stella è stato eletto con 13 voti. Credo che ci sia questa ulteriore e rinnovata possibilità di potenziare il lavoro dell'ufficio di presidenza e voglio evidenziare il buon lavoro che è stato svolto dalle colleghe e colleghi del precedente ufficio di presidenza e adesso l'innesto di Marco Stella e anche l'arrivo di questa nuova figura del questore sicuramente ha una volontà precisa quella di potenziare e moltiplicare anche le possibilità di copertura del territorio. Abbiamo individuato questa modalità di lavoro insieme, cioè l'allargamento dell'ufficio di presidenza non perché vi fosse soltanto un'esigenza di carattere numerico ma perché ci siamo resi conto che l'ampliamento dell'ufficio di presidenza corrispondeva ad un'esigenza di snellimento del lavoro corrispondeva insieme anche all'istituzione della figura del sottosegretario ad un rapporto diverso fra ufficio di presidenza giunta e lavoro del Consiglio giugnale. Non scordiamoci mai che noi viviamo una fase in cui c'è stato un taglio drastico del numero dei parlamentari pensiamo a quanto ha inciso sulla rappresentanza delle elettrici e degli elettori toscani a quanto è inciso nel rapporto fra cittadini ed eletti ecco noi pensiamo che nell'allargamento dell'ufficio di presidenza non solo c'è una rappresentanza ulteriore con l'ingresso di Forza Italia delle forze politiche in quell'ufficio lì ma c'è anche un modo diverso di lavorare. Federica Fratoni e Diego Petrucci sono stati rieletti consiglieri segretari dell'ufficio di presidenza Fratoni ha ottenuto 23 voti, Petrucci è stato eletto con 14 voti Intanto sono molto felice che l'Aula abbia riconosciuto il buon lavoro fatto e abbia riproposto i nominativi già presenti in ufficio questo appunto come segnale di fiducia anche per il futuro credo che continueremo a lavorare anche con l'innesto dei due nuovi questori in uno spirito di collaborazione che ha sempre contraddistinto le sedute dell'ufficio di presidenza orientando la nostra azione alla valorizzazione del ruolo che l'istituzione Consiglio regionale deve avere per tutti i cittadini toscani cercando di rappresentarle al meglio e soprattutto di favorire anche iniziative che promuovano i principi statutari del nostro ente Sicuramente con enorme soddisfazione e con un onore grandissimo rappresentare il Consiglio regionale della Toscana nell'organo di governo lo facciamo in maniera penso il più istituzionale possibile perché non è quello il luogo della contesa politica l'agone politico ci deve essere anche duro, anche rigido sicuramente in certi momenti radicale ma questo deve essere fatto nelle commissioni dove si discutono le proposte di legge e le linee di governo della regione toscana sicuramente nell'aula del Consiglio regionale l'ufficio di presidenza è un altro ambito nel quale dobbiamo invece decidere le regole che valgono per tutti e in quel momento dobbiamo avere un atteggiamento il più possibile super partes anche riuscendo a spogliarsi delle proprie appartenenze politiche e avendo appunto come obiettivo comune l'interesse dei cittadini toscani Il Consiglio regionale vara la prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 tra le varie voci spicca quella relativa alla vicenda Cheu il Presidente della Giunta Eugenio Gianni ha annunciato che dalla regione arriveranno 8 milioni di euro per le bonifiche rispondendo in aula a un'interrogazione presentata dalla consigliera regionale Irene Galletti la regione, seguendo tutti gli iter di legge previsti ha la volontà di sostituirsi agli enti preposti per le bonifiche dei siti inquinati dal Cheu Noi vogliamo che ciò che è urgente e necessario per le bonifiche venga fatto già 5 milioni sono a disposizione nel bilancio per poter agire sulle bonifiche occorre seguire le procedure che la legge ci propone sono procedure che spesso richiedono comunque il consenso, l'autorizzazione di chi magari con situazione di titolarità giudiziale in questo momento ha la responsabilità di quei siti quindi sono procedure purtroppo non brevi ma noi le seguiamo per poterci sostituire e bonificare quello che sono siti che possono essere stati inquinati dalla presenza del Cheu oltre 5 milioni che avevamo messo nel nostro bilancio altri 8 noi li metteremo proprio nella prossima variazione di bilancio perché riteniamo che comunque nell'interesse dei cittadini la regione che si costituirà a parte civile nel procedimento che è in corso da un punto di vista giudiziario può sostituirsi per anticipare quello che è l'effetto di bonifiche sul territorio Galletti ha giudicato la risposta insufficiente e tardiva Peccato che quest'azione che lui ritiene molto efficace è quantomeno tardiva soprattutto manca di un monitoraggio attento di quelli che sono e soprattutto nella comunicazione di tutti quelli che sono i siti contaminati perché queste aziende hanno lavorato anche in altri apparti pubblici e sappiamo che ci sono decine di migliaia di tonnellate di questo materiale sversato comunque sia immagazzinato, stoccato in luoghi che non conosciamo e quindi potenzialmente possono essere altri luoghi simili e nel 2023 migliaia di persone ad oggi sentono dire che con una variazione di bilancio la regione farà il possibile seguendo la legge la regione doveva fare il suo lavoro invece di essere compiacente e spesso troppo arrendevole nei confronti di molti imprenditori che non hanno fatto il loro dovere danneggiando così non soltanto l'ambiente e la salute dei cittadini ma anche tutti gli imprenditori onesti che hanno sempre fatto il loro lavoro rispettando le regole allentare le maglie della rete questo si doveva fare non provvedere a rimediare a dei danni che anche la regione ha causato a due anni di distanza e che ancora oggi non sono stati rimediati perché Green Park, Crespina Lorenzana, la strada statale 429 sono tutti ancora al loro posto con dei teli di copertura quando sappiamo che l'acqua permetterà al cromo esamalente di generarsi e andare nelle falde non ce ne facciamo più niente dei monitoraggi serve un'azione vera, non le parole del Presidente Un anno e mezzo fa Fratelli d'Italia aveva chiesto che le bonifiche venissero guidate dal Governo nazionale e non era il Governo Meloni quindi non avrebbe fatto bella figura al Governo Meloni avrebbe fatto bella figura a un Governo al quale Fratelli d'Italia stava facendo opposizione ci fu risposto da Gianni, dall'assessore Monni di no che le bonifiche le avrebbero gestite con risorse interne alla Regione Toscana individuarono a un commissario che iniziò a svolgere il proprio lavoro peccato che dopo tre giorni che era stata indicata per bonificare i terreni inquidati dal Cheule sia arrivata sulle spalle un'inchiesta per smaltimento abusivo di rifiuti da un'altra parte della Toscana quindi un capolavoro e da allora non è mai stato individuato un commissario se la Regione Toscana vuole un commissario da parte del Governo anziché dire che noi ci sostituiamo con i soldi continuino pure a spendere tutti i soldi che hanno per risanare il buco della sanità come stanno facendo fino ad oggi e semplicemente si rivolgono al Governo ammettano la loro incapacità di effettuare le bonifiche e chiedono al Ministro competente di avere un commissario che svolga questo servizio Presentati al Palazzo del Pegaso due appuntamenti imperdibili per gli appassionati di ciclismo ovvero la Gran Fondo del Vento in programma martedì 25 aprile e quella della Versilia in calendario domenica 7 maggio due gare che costituiscono un'importante occasione per apprezzare le bellezze del territorio La Toscana è terra di ciclismo e credo che questi momenti servano da un lato a rappresentare davvero in maniera unica quanta bellezza c'è della nostra terra e dall'altro permettere davvero a chi ama questo sport e sono tanti in Toscana di poter avere la possibilità da un lato di poter ammirare le qualità di tanti atleti e dall'altro di poter vivere queste giornate partecipando attivamente Questa è un'occasione importantissima parte da un posto straordinario che è il comune di Bagni di Lucca per percorrere la Gran Fondo del Vento nel caso specifico del Vento i tanti comuni della Valle del Serchio e della Garfagnana una grande occasione come quella della Versilia che praticamente porterà invece gli appassionati a scoprire gli aspetti più interessanti della costa insomma noi come regione ci crediamo e pensiamo che questa sia un'ennesima occasione per promuovere la nostra straordinaria Toscana anche quella più lontana e meno conosciuta La Gran Fondo del Vento è alla prima edizione ma è già entrata nel calendario internazionale la manifestazione versiliese è arrivata invece alla venticinquesima edizione si partirà dal lungomare di Viareggio e si arriverà nella cittadella del Carnevale girando tutta la Versilia fino a toccare il comune di Lucca Io sono quello di cicloturismo, bicicletta ho girato il mondo e questi posti sono veramente spettacolari si chiama Gran Fondo del Vento perché passa davanti alle grotte del vento ed è sicuramente il percorso studiato per la valorizzazione del territorio Bagnelli di Lucca ci ha ospitato in questa nostra iniziativa e noi siamo felici di partire con questa nuova esperienza perché è il primo anno Gran Fondo della Versilia ovviamente stiamo parlando di un pilastro sono 25 anni, sono le nozze d'argento siamo andati a cercare un percorso disegnato proprio anche in questo caso per la valorizzazione del territorio creare gli eventi oggi con il cicloturismo significa creare eventi all'interno degli eventi infatti nella Gran Fondo della Versilia faremo anche il lancio dei paracotutisti all'interno della cittadella del Carnevale quindi sarà una festa non solo per coloro che vanno in bicicletta ma sarà una festa per tutta la cittadinanza per tutti coloro che vorranno venire a vedere queste nostre manifestazioni grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti